L'ultima previsione del centro Maree conferma un picco massimo di 135 cm sabato verso le 12.05. Come annunciato dal commissario Elisabetta Spizzi, il Mose si attiverà per la prima volta in difesa della città. A quasi un anno dalla Marea Record che lo scorso 12 novembre ha devastato la città e a 54 da quel 4 novembre del 66. Le operazioni potrebbero iniziare verso le 8.30. In queste ore è anche in fase di predisposizione l'ordinanza della Capitaneria di Porto che da domani mattina prima dell'avvio delle procedure di sollevamento interdirà l'ingresso dal mare in laguna a navi e mercantili e vieterà l'avvicinamento alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia di qualsiasi natante da di Porto. Si tratta comunque ancora di un test in fase di emergenza perché il sistema sarà pronto e collaudato nei dettagli solo a dicembre 2021. A oggi sono state eseguite tre prove di sollevamento completo, la prima lo scorso 10 luglio alla presenza del Premier Conte, l'ultima l'11 settembre con un tempo di 50 minuti per alzare tutte le 78 paratoie nelle tre bocche di porto. I test tuttavia si sono svolti con il bel tempo, senza alta marea, al massimo qualche increspatura della laguna, quindi la giornata di sabato sarà un vero e proprio test sul campo. Saranno arrestiti anche due punti della protezione civile, uno a Piazzale Roma, uno nei pressi della stazione, per poter dare indicazioni utili a chi arriva. Intanto la massima di oggi si è fermata a 102 centimetri. Il vento di Scirocco potrebbe influenzare non poco la massima in laguna per la tarda mattinata di domani. Dovremo monitorare la situazione fino al limite di sei ore dall'evento, il tempo tecnico di chiusura delle bocche, ha spiegato il provveditore Zincone, perché poi la procedura non è modificabile. La macchina in città è già attivata. Oltre ai due organismi tecnici sono coinvolti il Consorzio Venezia Nuova che gestisce il Mose, il Comune, la Protezione Civile, la Prefettura, la Capitaneria di Porto per l'ordinanza di chiusura della laguna, il Centro Maree per l'Allerta alla Popolazione.